serve quello serve il back con goccia faccio il back full mana proprio goccia e cosa come si chiama e quell'altro il cristallo di mana addirittura ah pure il cristallo proprio cioè il primo back che faccio ti fai lost chapter eh per forza come sei stato quasi dorance dorance ring ho visto il nome di malfight ottimo prete, ottimo parroco nome degno dei parroci ma così è partito subito delle goccia, tanto è questo il dorance shield no la dorance shield dai io sto pensando se andare di goccia perché c'è non so quanti oggetti ah beh però c'è da dire che dopo rallento troppo la build, va bene il cooldown redaction ma rallento troppo la build mi sa mi sa che tu non ti conviene non dà tanto più quell'item ma non è tanto per la P è perché la mia ultima c'è un cooldown immenso c'è addirittura 20 secondi più della tua quindi fosse andato di di come si chiama archegia staff avevo altri 23 23 25 ability haste però vabbè in realtà se mi faccio mi faccio mi faccio liandri mi faccio cosmic mi faccio rise on focus già 20 30 45 75 già non è male 83 da ability haste arrivo con tre oggetti ma tu se invece farti il liandri ti fai il night at harvester cioè non c'hai il mana lì a me fa un po' di mana fa comodo eh io lo so ma se ti fai i mari solo il pezzo la goccia eh ma così brucio tutti con la ulti eh lo so però mi sa che fai più danni cioè se l'obiettivo tuo alla fine è distruggerli no shottarli quello fa danno a tutti no sì però non posso lasciarmi solo sulla ulti cioè cosa faccio gioco ogni due minuti eh sì no in effetti bene e questa l'abbiamo già sistemata poi io però se kartus prende sempre un sacco di cazzo da tutto il resto però sparata ottimo kartus è cattivissimo con steq comunque molto molto cattivo i soldi e per un casino di danno soltanto guardandoli kartus squishissimo 21 di armor base un po' di schiaffetti eh io mi è un incubo comunque oddio sì parecchio ah beh non si possono bannare tutti jacopo non si possono bannare tutti abbiamo fatto parecchi soldi ah quello sì e la wave è good è super buona wave quindi adesso andiamo molto su di exp abbiamo nupok frizzata non ha funzionato moltissimo il frizz no va bene va bene adesso si si ricongiungono questo è regolarmente frizzata ma dove stanno questi boh ecco ma adesso un quarto di vita da una q di yumi ma si è fatta la p oh vabbè yumi ragazzi ecco la non le posso mettere un cooldown all'entrata e all'uscita dalle persone c'è un po' incredibile sta cosa cosa mi ha danneggiato così tanto forse laia ah c'ha vision qua dentro addirittura potrei essere morto io io non ho più mana vabbè tanto dal 6 in poi si inizia a fare casino si 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 bisogna avere solo pazienza oddio l'issin va bene va bene così vai tutti e due morti vabbè è accettabile com'è la wave provrò a pushare no ok ok e pushare dici si adesso vedi se è frizzato se no allora mi serve anellino dove sei anellino anellino e poi ok non il miglior drake è questo ma finché non lo facciamo non ci riescono gli altri quindi no ma in realtà ci aiuta tantissimo in questa lane dai ah beh sì è il miglior drake early game il peggiore per il resto era un tempo che era broken sto cosa tic tic zeri gameplay ragazzi clicco la Q tutto il tempo eh oh yes i soldi peccato che sia di nuovo full però i danari rimangono W e aspetta che rientrano nel campo oddio oh mio dio oh mio dio faker what was that è colpa nostra Jacopo lo sapevo che era colpa nostra me lo sentivo vabbè c'ha ragione se io muoio mi va benissimo io ero già ho stopwatch pronto è stata talmente tanta azione qui vorrei fare un betone perfetto man ah proviamocelo dai vediamo un po' che riusciamo a fare ah no è arrivata quella ok mi sa che non vediamo più quello che riusciamo a fare senza paura ok buono lo accettiamo oh si oh si oh si yeah oh si oh si oh si oh si le cure yeah ogni quanto arriva la cura dell'ossian ogni 5 secondi oddio vabbè devo andare back ma no lascia lavorare l'ossian fidati ho il tp ho il tp post oddio oh mio dio faker what was that aiuto richiamo dell'aiuto aiuto ma i nostri gli altri che proviviano non capisco stanno facendo i provvini per avere adesso ritorna adesso arriva per avere la 104 questi presentano replay all'imps dicono c'è la ward mate c'è la ward non puoi c'è da togliere la ward allora poi puoi far eh si e ha schippato il primo passaggio del tutorial mi sa questa è la smart q ragazzi oh ora sei pronto oh adesso questa era buona eh questa era buona questa è tolta la ward apposta incredibile ragazzi seguite the game per altri tutorial così accurate adesso si ragiona direi questi soldi per noi per all'isim dopo che è morto quattro volte dopo questo gank direi che sono in merito sfonda la mcs come un vero troll pick palestrato sa fare adesso basta l'isim dai no no dai basta dai tutto pure i minion ok non c'ho ultima poco però secondo me se li uccidiamo qua è enorme aiuto ma 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 non sto ad ultare qua non ha senso non pensavo di prendersi lì boh ho fatto 40 km quella q porca miseria vabbè yumi bro dove sto a pocciare e questo è il massimo che si può fare contro yumi player va bene stiamo staccando stiamo staccando io ancora non ho il mio power spike e liandri oh è tua è tua è tua let's go baby let's go così si fa sto pensando agli ionian pericolore d'action ma forse non mi serve con tutti gli oggetti che faccio o comunque un'ottantina no no ma ci pende troppo 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 18 è tantissimo si quello va a fare una volta era 15 mi ricordo ci vediamo a un prossimo video roar di grotti ha detto non è abbastanza di più è perché non se li fa quasi nessuno in realtà io a raka grazie il prime e grazie limone per i beats e panda blu grazie il prime anche a te caro grazie mille ho ancora più di due minuti sulla ultima però insomma inizia a scalare perlomeno dai ops questo è un po' che bezza al culo tranquillo anch'io ma noi scaliamo oh questi stanno mid oh guarda quella oh oh prendo l'assist vai assist di al oh nice due stacchine mancanissimo tu non hai preso l'anellino no non mi sentivo tanto in grado lo ammetto nemmeno io però guardami adesso ho due stacche come il famoso magiae nel game di nidali mi ricordo enorme come usare gp senza shin piacevole bellissimo è un'esperienza che consiglio a tutti aiuto ma sai che ci arrivo giusto giusto si ti sa quasi quasi vai è morta io vai oh aiuto aiuto la mia stack è gone io ho tirato la ultima non me l'ha tirata vabbè forse è meglio così sinceramente oddio ah oh oh dai lissin ah no udire non mi serve no sti cazzi mori però jace jace si jace si spero che sia andato eh non ho fatto in tempo purtroppo stavo ancora muerto se rubo il blu suon te si offende il ragazzo secondo me no ok anzi è contento è contento meno male ah che bello wow adesso non si sente ma è molto contento vabbè ma mi fido guarda questo questo ci serve eccolo mannaggia io che volevo obiettarlo comunque mi ha fatto metà vita con una Q non potenziata mi fa molto piacere sempre bello giocare oddio potrebbe scendere un po' di gente sai togliamo sta ward intanto non ci arrivo vabbè meno male che abbiamo l'ocean udire qui vai vai senza posta senza pensieri non riscoltare vabbè troppo tardi ho fatto più danni possibile lo potevo ultare mannaggia a me aver fatto un bel casino ma l'ho fatta in tempo ma insomma l'ho fatta in tempo ad attaccarlo allora dai ci sono quasi per l'item buono 3705 va bene così ragazzi tanto noi scaliamo tipo botting prendo l'exp eh ma qua sarà almeno livello 11 c'è kratus al 6 ogni due minuti c'ho la ult ma si può eh io io pure cavolo 120 ok però 3 stack ultime tante rimasti jace e malzar eh sì purtroppo sì cloud drake no qual è il drake questo qua non è malaccio danno in più ci dà anche cooldown ed action molto utile approccio veloci approccio veloci eh vabbè è troppo veloce vorrei ultare ma non penso serva a nulla oh adesso boom niente sono arrivate mille cure da parte di yume troppo ci countera troppo la gente che cura vabbè sono morte anche con la mia ulti sta cosa è incredibile report malfight ah ok meno male che non siamo noi oh guardano nice good job good job così si fa ragazzi così eccolo così si fa tranquillo tranquillo oddio ci accerchiano arrivando 100 conviene correre via mettiamo qua dietro tanto tanto io ho tolto il coso eh tanto fanno il drake se lo giamo glielo lasciamo e tutto andrà bene ma sai questo manzaro io vorrei prendere però l'ultima stack ho già andato back però va io mi nascondo qui così quando manzaro arriva poi lo pecchiamo nel caso ho la W per scappare via ok arrivo anch'io io l'ho ulti in 50 però prendiamo questo tanto il mio jungler è buono mi sa che non viene mi lascia tutti i campi non viene non viene molto generosi a quest'è lo vedi tutto ti lascia troppo gentili lo ammetto quando ti manca all'11 all'11 proprio niente l'altro c'ho anche il light ma tra poco vorrei andar back già col potenziamento oddio ecco purtroppo è un po' tosta vabbè ho fatto l'11 gli hai shottati ci vediamo a un prossimo video va bene mi manca poco il potenziamento l'R è sempre una bellezza riabbonarmi al suo canale comunque intanto siamo all'11 ulti ogni 96 secondi e insomma e insomma ragazzi utir livello 14 farà malissimo coiumi addosso abbastanza devo dire a senso direi proprio di no e insomma ragazzi uno alla volta sono andati non è che senza la cave sto una cacca alla fine c'è il first strike più o meno quello fa la differenza è che il first strike ti dà soldi e considerando che dalle altre cose di soldi non ne prendo tanti ci accontentiamo così ecco stanno contro ovunque questi mi sa che vuole sparare nella schiena stanno qua dietro stanno oddio questi no gampera di qui ah bello not bad rip top lane I guess oh malzer oh 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 let's go mille gold let's go e ultima stack e ultima stack sì ragazzi eh sì capisco che killare mazzare è importante però nice ecco io ho dovuto luttare per forza io qua faccio come il capitano schettino caro Malfe mi dispiace eh quale importante era stoppare di sto nascere uddio dei soldi bene ha pigiato i tasti piacevole anche questo anche questo mi ha pigiato ah ah sì siamo stati pigiati tutti mi sa ha cliccato ha cliccato sì allora mi sa il dark seal e lo vendo ma non perché non perché non funzioni però no 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 ho voluto investire in altri in altri asset sì nel frattempo richiamano richiamano il baron io ho 20 secondi non c'avrò la ult qua ti serve un bel nasce o stia all'isenda io c'ho la ult in 4 secondi invece però ho il tp questo deve essere interessante scopate ma è morto qua ma cos'è muore nessuno vabbè e riprova lo baron sto baron non sa da fa mi dispiace mi sa caudo di zoni e poi lo faccio questo molto bene ragazzi molto bene mi accopo le scarpe e le facciamo è più tardi mi serviva il basta mi serviva questo è un buon investimento anche quello devo dire adesso dopo le faccio non ci vogliamo fare sto trick fate fatevelo ma si mi sa che non lo faremo avete zonato Yumi va bene va bene va molto bene c'ho il potenziamento ci abbiamo il drake buono ok adesso posso completare anche le scarpe vai c'ho la zonia io mamma abbiamo messo lo smite molto bene a me manca ancora malzar me manca malzar oddio il micro mazar è stracounterato buona dalla mia R cioè premio R io premo R lo demoliamo si io stare attento fossi in te uno top io non ci posso andare vado io vado io diciamo che è un po' più da iron questa bot ecco sai giocare GP in quel modo perché che lo siamo non siamo iron no io sono gold 3 ah siamo alti allora eh sì vai però è qualcosa che va provato eh sì sì siamo vicini alle lecce ormai ecco posto quasi altro cd guarda comunque i fight secondo me li stravinciamo quando vanno al Nashor iniziano a tankarsi tutti solo quando vanno al Nashor però eeeh devono stare belli gruppati vabbè ottimo vabbè il grande bait no niente adesso non iniziano il Nashor no ma è meglio se non ulti adesso non iniziano il Nashor e noi li ultiamo ok tu li ulti vai da un po' spawni pure tu eh sì purtroppo quelli che curano counterran troppo 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 chiunque curi counterra troppo vabbè una ulti a testa tra un po' lo riprovano vedi adesso Silas muore lo riprovano e io ult e via così a spam e continuiamo in loop continuiamo grazie Robin Hood per i cinque mesi bentornato Robin bentornato stanno che non ci sia un permaflame in chat come in serio schioffi va facciamo così subito ce lo togliamo dal pensiero quanti soldi hai preso? non c'ho fatto chat quanti soldi ho preso? come 59 gold ma vai troppi anni abbiamo fatto qui un attimo che io ho perso tutta la vita da non ho capito bene cosa io ragazzi sono morto contro l'aria ma che cazzo a me abbiamo attaccato la malattia di Sin niente malza ragazzi what the fuck sono morto di HIV non lo so è vero c'ho la zona è che non pensavo di morire ragazzi il covid ritenta non nascero sei pronto? sono pronto sono pronto io rispondo tra io c'ho la ulti in 18 fa troppo danno la tua ulti non possono farsi però fa riderissima sta cosa qua il fatto che non possa fare il lascio finché abbiamo le ulti up no è troppo troppo rosso allora tra un po' c'è il coso c'è il drake ma è che c'è una marea cd pur sì sì teniamo le ulti per quello adesso c'ho anche l'horizon focus poi che ci facciamo shadow flame che dà contro gli scudi ce n'hanno i scudi loro oddio ma puoi andare di cosmic se vuoi spammare ma già c'è una marea cd 66 voglio qualcosa di one shot ti provo però forse sì il cosmic posso fanno sì 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 ah posso fanno anche il demonic primo danno in base alla vita ah sì ci sta il demonic il primo problema è che mi servirebbe il potenziamento ma non riesco a staccarlo eh quell'altro pure grosso comunque forse ci dobbiamo fare sto trick fatelo voi io intanto vado a prendere la wave di qua e c'ho paura che ci sia jess jess è qui ok abbiamo andato a difendere la wave se vanno al Nashor non è un problema eh già con l'ultimo ultimo ulti comunque ci ho fatto tipo 200 gold quando hanno provato a fare il Nash e la mia identemente fa poco danno ancora è che io ne faccio più per time si ma alza io non l'ho hit a parte a quel presupposto ma questa volta l'ho fatta vabbè vabbè all'Aki ragazzi non stavo proprio guardando qua ma cos'è sto ah jace va bene è vero non ho detto nemmeno Yumi mamma mia che due coglioni ragazzi vabbè eh nemmeno io siamo stati super counterati questa non conta non la rifaremo dopo ma questa non conta state tranquilli un giorno la rifaremo senza Yumi senza sta roba qui esatto va tolta è che ho bannato Morgana perché se è anche Morgana piazza la E bot hard diff sì sì vediamo il grafico dei danni cosa dici oddio forse Staxia è una fatti e danni vabbè adesso vediamo un po' come sono andate le nostre ulti appena il client torna a funzionare eccolo qua car to stop damage del team però il team nemico ha fatto cosa è la Xaia purtroppo ha fatto i danni nostri insieme è sì la Xaia è la Xaia